Grazie a tutti. Grazie al sindaco in primis e alle autorità di Genova, le autorità politiche, un porticciolo, la riqualificazione dello specchio acqueo del porticciolo di Nervi e la viabilità via mare perché la sindaco ha detto che non vuole un porticciolo turistico e io so che Nervi rientra in un contesto turistico, perciò il porticciolo, riqualificazione dello specchio acqueo, non vuol dire riqualificazione dal punto di vista anche turistico, però noi dobbiamo rilanciare questa idea e questa progettazione. Con tanto di collegamento a Levante via mare, come c'è il nave bus che arriva a Pegli, voi vorreste un nave bus che arriva a Nervi, soprattutto in un momento in cui il trasporto pubblico sta molto soffrendo, voi è quello che chiedete a gran voce. Parlano della diga foranea, mentre a Nervi non c'è, però almeno il periodo estivo potrebbe essere utilizzata la nave bus. Allora noi ci facciamo portavoce di questo messaggio, vedremo di approfondirlo anche nel corso delle nostre commissioni insieme per i municipi con Genova per 9. Grazie Presidente, allora anche a lei lo stiamo dicendo a tutti, buon vento.